Ben trovati alla TG7 Basilicata. Vito Bardi, presidente della regione Basilicata, ha emanato l'ordinanza numero 43, un'ordinanza che conferma le disposizioni nazionali, sospendendo le attività di ristorazione ad eccezione di menze e catering e consentendo la consegna a domicilio di cibo e bevande senza limiti di orario e l'asporto fino alle ore 22. Tra le altre misure, il divieto di uscita ed entrata dalla Basilicata, il divieto di spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio e abitazione, salvo che per comprovate esigenze. L'ordinanza, infine, permette le attività di cura di fondi rustici di proprietà, piccoli poderi, orti, vigneti, ovvero la coltivazione di terreni ad uso agricolo, consentita anche l'attività diretta alla produzione per autoconsumo, quali per esempio quella legata alla raccolta dell'oliva e alla produzione dell'olio. Andiamo avanti con l'informazione. Nei comandi provinciali di Potenza e Matera, stamani è stato presentato il calendario storico dell'Arma dei Carabinieri 2021. Le presentazioni, condizionate dalle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19, sono state fatte dai comandanti provinciali, in particolare il colonnello Nicola Albanese a Potenza e il tenente colonnello Nicola Roberta Lerario a Matera. E' proprio infatti a causa di queste misure connesse al contenimento della pandemia che non si è potuto quest'anno presentare il calendario nell'ambito della consueta manifestazione. Tuttavia questa mattina a Roma il comandante generale del Corpo d'Armata Giovanni Mistri ha voluto svelare al pubblico in videocollegamento l'ormai atteso prodotto editoriale accompagnato da coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera. Il professor Aldo Norati e lo scrittore Valerio Massimo Manfredi con il giornalista Aldo Cazzullo a tenere le fila del racconto che celebra uno dei massimi esponenti simboli italiani Dante Alighieri di cui ricorre il settecentenario della scomparsa. Mentre ci sono state analoghe presentazioni a Potenza dal colonnello Nicola Albanese che ha illustrato il contenuto del calendario storico e dell'agenda storica 2021 oltre alle altre due opere che completano l'offerta editoriale, il calendario da tavola e il planning. Lo stesso è avvenuto appunto a Matera grazie al comandante Nicola Roberto Lerario. È importante sottolineare la valenza, la razza che sta alla base di questo calendario, le storie ispirate da episodi di vita vissuta e le immagini raffiguranti simboli ed elementi dei carabinieri facilmente riconoscibili si sposano e dialogano fra loro in una letteratura mista che riporta stili ed epoche da cui traspare lo spirito eroico del militare e la consapevolezza di trovare anche nei gesti più piccoli il coraggio di una vita di valore, facendo inoltre da contrapunto alle terzine della divina commedia del sommo poeta Dante. Nella forza delle parole si distinguono in modo tangibile i livelli di cura e attenzione espresse nelle attività del narratore, così come lo spirito di sacrificio e fedeltà del carabiniere che veia ogni giorno sugli altri. Andiamo all'ultima notizia, prosecuzione e completamento della stagione sportiva. È stato questo il tema principale affrontato dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in videoconferenza per la quasi totalità dei suoi componenti. Pur considerando il protrasti dell'emergenza sanitaria e le incertezze legate ai cambiamenti delle misure di contenimento al contagio da Covid-19, l'obiettivo principale resta quello di privilegiare lo svolgimento e il completamento delle attività sul territorio. Per questo il massimo organismo ha deliberato l'annullamento della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, degli spareggi tra le seconde classificate di eccellenza e della fase nazionale del campionato Juniors regionale. Annullati per la stagione 2020-2021 anche i tornei delle regioni sia di calcio a 11 che di calcio a 5. Nell'immediato, immaginando la possibilità di poter riprendere le attività appena dopo il termine di efficacia dell'attuale DPCM, la Lega Nazionale Dilettanti ha ipotizzato la ripresa degli allenamenti a partire dal 4 dicembre per le due settimane successive. Spazio poi ai recuperi delle gare non disputate e infine agli incontri dei campionati. Io come ogni sera vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani.